in cui cessa il tempo. Cerchio Firenze 77 attraverso Roberto Setti a cura di Luciana Campani Setti. Il mondo della soggettività accade facilmente. Un abitante della terra osservando il fenomeno del dia e della notte può credere che esso sia dovuto al moto di rotazione del sole attorno alla terra, moto che avverrebbe da est a ovest. Se si sposta il punto di osservazione il fenomeno del dia e della notte appare invece dovuto al moto di rotazione della terra su se stessa in presenza del sole, moto che avviene da ovest ad est esattamente in senso opposto a come appariva il presunto moto del sole all'abitante della terra. Ripeto, il manifestato e il non manifestato compaiono allorché si delimita lo spirito assoluto. Che cosa è spirito lo abbiamo detto è sentire. Esiste un solo spirito assoluto, un solo sentire assoluto, una sola coscienza assoluta. Ogni altro sentire dunque è un sentire relativo, cioè sentire in termini relativi, circoscritti, limitati, soggettivi. Che cosa sia questo sentire del quale vi parliamo non è agevole a dirvelo, lo riconosco. Il sentire è l'essere e la parte di realtà che esprime o la realtà che esprime. Generalmente si crede che la realtà cosmica sia del tutto esteriore, esterna all'individuo e che solo una piccola parte venga captata dall'individuo attraverso la sua percezione. Ebbene io vi dico e affermo che la realtà cosmica è del tutto interiore e che anche quella parte che viene colta come esteriore, se voi riflettete, non si può dire sicuramente che lo sia e che piuttosto non si tratti di immaginazione. Voi avete dei pensieri, dei desideri che sono stimolati dalla percezione del mondo nel quale vivete. Ciò è così importante per voi che si può dire che viviate solo quando desiderate, quando pensate. Ma il processo della percezione per rivelarsi deve sottostare al gioco dei contrari, il piacere, il dolore, il caldo, il freddo eccetera. Nei rari momenti in cui vi sottraete a questo gioco dopo un enorme travaglio interiore, quando tace il pensiero e il desiderio. Qualcuno di voi può avere provato un sentire nuovo in cui cessa il tempo, in cui v'è pienezza, beatitudine e sembra di poter contenere tutto quanto ci circonda. Continua. Grazie. 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 Grazie.